Nei giorni scorsi a Giarre, fra i temi trattati in seconda commissione consigliare permanente, c'è stato quello da sempre controverso relativo allo spostamento del mercato settimanale del giovedì. Il presidente della seconda commissione consigliare, Rosi Finocchiaro, ci ha illustrato l'iter che si intende seguire per il miglioramento del mercato. Esaminato ancora una volta il problema della fiera del giovedì. Abbiamo esaminato la quantità di stalli che attualmente sono occupati. Questo è un numero che abbiamo chiesto agli uffici competenti che immediatamente ci hanno dato il dato e attualmente 104 sono i posti occupati, quindi diciamo meno della metà su 212. Questo è un dato veramente interessante, in quanto oggi da ora in poi si può iniziare a studiare una nuova zona dove andare, perché con un dato decisamente più basso si può iniziare a studiare. Si è fatto anche presente dagli uffici che l'ideale non è proprio restringere questo dato a questo centinaio, ma allargarlo, perché ovviamente se la zona della fiera si spostasse in una zona centrale, sicuramente sarebbe più appetibile agli ambulanti e anche ai fruitori della stessa. Quindi il primo passo è andare in Consiglio Comunale, abbassare il numero degli ambulanti che devono sostare all'interno dell'area e anche diminuire la parte di via Federico di Svevi in maniera che intanto questa strada che è tutta occupata possa ritornare a essere occupata solo una parte di essa. Successivamente si chiederà agli uffici competenti di studiare una zona giusta, una zona ben definita e l'amministrazione si muoverà di conseguenza.